Parlando un po' dell'Università di Catania, spesso la vediamo in basso le classifiche con l'Università anche di Palermo. Lei ha pensato già a una strategia, a un progetto proprio per risalire questa classifica? Sì, noi siamo penalizzati da alcuni dati, cioè il dato di abbandono degli studenti al primo anno, perché questo è un deficit di quello che dicevo prima, dell'orientamento che possiamo dare a livello scolastico. Siamo penalizzati dal numero elevato di fuoricorso, quindi dobbiamo fare in modo che gli studenti assistiti adeguatamente da quelli che sono i tutor che abbiamo messo in campo e metteremo sempre più in campo, possano rimanere in corso. Siamo penalizzati dal fatto che alcuni nostri ricercatori non sono molto operativi nel campo della ricerca. I corsi laurea che però abbiamo al momento funzionano bene, soprattutto le lauree triennali sono molto richieste dai nostri studenti. C'è una minore richiesta sulle lauree magistrali biennali, cioè sul biennio post-triennio. E lì è dovuto allo scarso impegno che abbiamo avuto fino adesso nell'adeguarci al mondo del lavoro. Cioè dobbiamo creare un percorso università-lavoro in maniera da offrire degli sbocchi occupazionali che possano rendere più attrattivi i nostri corsi di laurea. Quindi un po' il principio scuola-lavoro, trasportarlo in università-lavoro con un rapporto con le imprese. Infatti io addirittura parlavo di alternanza scuola-università-lavoro, perché secondo me è un percorso che va fatto insieme alla scuola all'inizio e insieme alle imprese alla fine. L'università non si deve solo interessare di quello che è il momento formativo, ma anche del pre, cioè dell'orientamento pre-università con la scuola e del post, cioè dell'inserimento nel mondo del lavoro dopo le lauree.